Così come gran parte degli italiani ha votato alle spalle la vecchia politica. Perché ormai, e questo è certo, la misura è colma. C'è una cosa paradossale che mi colpisce, no? Che tutti sono preoccupati dal fatto che non c'è governabilità. Vabbè, lo abbiamo capito, no? In Senato non c'è la maggioranza, eccetera. Il vero paradosso qual è? Che se anche Bersani avesse la maggioranza assoluta comoda al Senato, non avremmo governabilità. Avremmo di nuovo un governo etero diretto. Perché una delle poche cose che abbiamo capito negli ultimi anni è che noi, in casa nostra, non contiamo nulla. Cioè le politiche italiane non sono decise a Roma. A Roma ci sono dei notabili che si limitano a mettere per iscritto e la cosa icastica, diciamo così simbolica, è stata la famosa lettera della BCE, delle politiche che vengono dettate da altre centrali di potere. Queste centrali non sono a Roma, sono a Francoforte e a Bruxelles. Quindi la vera straordinaria priorità di questo paese è che una grande maggioranza di persone, io mi auguro possa essere Grillo e in futuro qualche altro, forse il PDL, prenda coscienza che è necessario rinegoziare, non dico uscire dall'euro perché poi scateno di riflessi condizionati pavloviani, tipo, ah tu sei pazzo, vuoi uscire dall'euro. Rinegoziare il nostro rapporto con l'Europa, perché non è pensabile che noi viviamo in un'Europa dove lo Stato italiano si deve finanziare sui mercati a un 4, un 5, un 6% e ci sono le banche private che dalla BCE si finanziano lo 0,050%. Allora io dico, chi ha costruito un sistema dove uno Stato nazionale non ha più la sovranità monetaria, cioè non si può stampare moneta e deve andare col cappello in mano a istituzioni che si chiamano mercati, cioè i grandi speculatori internazionali, a chiedere denaro. Una cosa per esempio che mi stupisce non venga mai detta, né dal PD né dal PDL, tutti che parlano ridurre la spesa pubblica. Allora noi dobbiamo sapere che in Italia, presi le tasse e le imposte e prese le spese, noi siamo in avanzo primario, cosa vuol dire? Che con le nostre imposte ci paghiamo le nostre spese dall'inizio degli anni 90. Questa è una solare evidenza che non viene sottolineata da nessuno. Allora uno, il cittadino comune, l'uomo della strada, ti dice ma come, che strano. Allora da dov'è che ha origine il debito pubblico? Perché noi ogni anno dobbiamo pagare di più? Io pensavo, potrebbe dire il cittadino comune, che stiamo sprecando, quindi eliminiamo le province, eliminiamo i comuni, riduciamo la sanità. In realtà sono balle, perché? Perché nessuno ha il coraggio di dire la verità. La gran parte del debito pubblico, anzi tutto, tutto quello dal 90 in poi sicuramente, è ingenerato dal fatto che noi dobbiamo pagare un'enormità di interessi passivi a coloro che ci prestano denaro. Allora due domande cruciali. Numero uno, perché uno Stato sovrano deve andare a chiedere denaro in prestito? Numero due, perché uno Stato sovrano non ha una propria banca che gli presta il denaro a costo zero quasi, come avviene in Giappone o negli Stati Uniti d'America? Ti do una prima risposta e poi lascio che siano magari gli ascoltatori a cimentarsi. Nel 1981 o fino al 1981 la Banca d'Italia apparteneva sostanzialmente al Ministero del Tesoro. C'era un vincolo per cui la Banca d'Italia era obbligata a comprare i titoli di Stato italiani. Voglio dire, dovevamo finanziarci, dovevamo finanziare l'opera pubblica, qualsiasi cosa, andavamo dalla Banca d'Italia, lei era obbligata a comprarci i titoli e ce li comprava interessi ridicoli, risibili, era nostra. Dal 1981 c'è stato il divorzio col ministro complice, il ministro Andreatta, tra Banca d'Italia e Stato italiano e Tesoro. Da quel momento e soprattutto poi dall'entrata in vigore dell'euro, noi siamo sostanzialmente diventati un paese a sovranità limitata. Per cui che governi Bersani, che governi Berlusconi, che ci sia l'ingovernabilità che tutti spaventa in questo momento, non cambia nulla. Finché noi saremo un servo, uno Stato servo dell'Europa, le cose non si risolveranno. E vi faccio notare che il commissario ad acta, cioè il commissario liquidatore che ci doveva portare al fallimento, non ci è ancora riuscito perché l'hanno fermato prima, che è il presidente del Consiglio uscente, ha detto nella sua conferenza stampa successiva alle elezioni dell'altro giorno, una cosa molto significativa, ma siamo andati tutto sommato bene, sono andati malissimo per fortuna nostra, però l'importante è che in Italia sia radicata una forza del 10% notate con forte vocazione europeista. È questo che fa paura alle cancellerie, che fa paura alla Merkel, che fa paura alla BCE, che fa paura ad Obama. Ma fa paura il fatto che l'Italia possa uscire da quel progetto, che da anni e da anni e da anni sta maturando, di dissolvere le sovranità nazionali in un unico crogiuolo, che è quello europeo, che è sostanzialmente uno Stato unico, continentale, dove tutto viene deciso all'alto e i cittadini non contano più nulla. Perfetto. Pronto? Chi è? Buongiorno, Adriano Sarnede. Dica. Allora, parole sante, quelle del signore ultimo che ha parlato. Volevo dire anche due parole su quanto ha detto la signora presente, unica signora. Non conosco il nome, mi scusi. Quanto tempo è che fa politica, lei signora, se posso? Quattro anni. Quattro anni. Allora lei forse non può sapere che quello che lei ha detto sul taglio di qua, taglio di là, taglio di su, qualcuno vent'anni fa, oppure comunque quando l'Italia è entrata in Europa...